La biblioteca comunale Stelio Mattioni, inaugurata ad aprile del 2007, è una biblioteca di pubblica lettura situata a Trieste nel quartiere di Borgo San Sergio. Collocata alla periferia est della città, si inserisce una zona agevolmente raggiungibile ed in prossimità a numerose strutture educative ed aree verdi e ricreative. Vi accedono normalmente circa 30.000 utenti di ogni età e provenienti dall'intera provincia. Secondo le direttive legislative e le linee contenute nel Manifesto Unesco delle Biblioteche di Pubblica Lettura, la biblioteca sviluppa e promuove l'accesso all'informazione e dalla pubblica lettura. È sede di servizi di informazione e di collezioni documentarie di carattere generale sui più diversi tipi di supporto, carta, cd, dvd, periodici. Favorisce lo scambio interculturale tra le diverse comunità del territorio, la promozione di eventi culturali, fornisce il prestito e la consultazione di tutto il materiale posseduto, la consulenza bibliografica e l'accesso alla rete internet da postazioni fisse e wifi. Garantisce inoltre l'utilizzo di postazioni informatiche multimediali e cura l'attività didattica organizzando visite di istruzione ai laboratori rivolti all'utenza libera, alle scuole e alle strutture educative fin dalla primissima infanzia. Le collezioni della biblioteca sono registrate nel catalogo del Polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale per consentire una visibilità di tutto il patrimonio documentario in rete. I servizi sono garantiti ai disabili grazie all'eliminazione di tutte le barriere architettoniche e dal fine di favorire l'accessibilità alle risorse informative e dai servizi erogati sono state riservate due postazioni multimediali dotate di ausili per i povedenti e i disabili motori. Nello specifico la biblioteca possiede un patrimonio di circa 34.000 documenti disposti in varie sale. La mediateca che sviluppa l'ambito documentario legato alla diffusione delle conoscenze su supporti digitali, informatici, audiovisivi e promuove adeguati servizi bibliotecari finalizzati alla loro fruizione. La sala bambini, la sala ragazzi e lo spazio Young Adults, arredati da destitti adeguatamente, sono il luogo della lettura libera, dove i ragazzi e i bambini possono scegliere in autonomia cosa, quando e quanto leggere, visionare o ascoltare. Rappresentano uno dei servizi di eccellenza della biblioteca per l'attenzione riservata a proporre, sin dalla prima infanzia, un approccio alla conoscenza stimolante e piacevole. La biblioteca è partner del Progetto Nazionale Nati per Leggere, rivolto ai bambini dai 0 ai 6 anni, ed in questo ambito organizza ogni anno iniziative dedicate anche a questa fascia d'età. La sala adulti e la sala studio comprendono opere di saggistica e narrativa, collegate a scaffale aperto e postazioni di consultazione dei cataloghi e navigazione internet. La tipologia della documentazione, le modalità e i criteri del suo sviluppo, le politiche conservative e di scarto, nonché le tecniche di ordinamento e catalogazione, sono definite in rapporto alla migliore ed autonoma fruizione da parte degli utenti. L'Emeroteca, che raccoglie i principali quotidiani riviste su vari argomenti, e la Fumetoteca, con apprezzate raccolte di fumetti di ogni genere.